Poter disporre di un parco mezzi sempre efficiente rappresenta un elemento fondamentale per il buon funzionamento di un'azienda, sia essa privata che pubblica. Le condizioni economiche in cui versa il Paese, infatti, spesso non consentono di disporre di mezzi di scorta. Da qui l'importanza di una corretta manutenzione che può garantire l'efficienza del parco mezzi. Su questo argomento abbiamo chiesto il parere ad una realtà che conosce bene il problema. Si tratta delle officine meccaniche Longo di Bari, un punto di riferimento dei marchi più noti nel settore della riparazione per mezzi pesanti, autobus, veicoli industriali, motori marini e mezzi per la movimentazione terra. La corretta manutenzione del veicolo diventa fondamentale per una buona affidabilità del veicolo stesso, in quanto così facendo riusciamo ad allungare notevolmente la vita stessa del veicolo. Oltre a questo, non meno importante, riduciamo tantissimo anche i costi di riparazione, perché nel caso in cui dovessimo eseguire delle riparazioni a seguito di cadute, sicuramente i costi sarebbero notevolmente superiori. Poter disporre di mezzi perfettamente efficienti consente alle aziende di trasporto di eseguire correttamente le commesse a loro affidate. Da qui l'esigenza di poter contare su interventi di manutenzione veloci, anche in caso di guasti importanti. Prerogativa fondamentale di un centro di assistenza è la velocità di intervento, in quanto si riescono a ridurre così i tempi di fermo macchina, dando la possibilità al cliente, soprattutto per chi ne ha pochi, di poterlo avere nuovamente subito a disposizione e riprendere il proprio lavoro. Uno degli aspetti fondamentali da tenere presente nella scelta dell'officina a cui rivolgersi è verificare che abbia attrezzatura specifica per le riparazioni e per la meccatronica, oltre a personale qualificato per eseguire una diagnosi e una riparazione corretta. Altro aspetto fondamentale è l'esecuzione di una corretta diagnosi. Per far questo è importante comunque rivolgersi presso i centri autorizzati delle case costruttrici, perché questo consente comunque di avere un intervento più mirato nella riparazione. Basti pensare che al semplice azionamento di una freccia da parte dell'autista, nei veicoli intervengono dalle 4 alle 5 centraline, quindi per cui l'aspetto tecnico, l'aspetto diagnostico è diventato fondamentale per capire come poter risolvere un problema. Le officine meccaniche Longo dispongono di un consolidato rapporto e di collaborazione con le principali aziende costruttrici di automezzi, di gruppi e di componenti che li equipaggiano e quindi possono contare su una costante formazione professionale per il proprio personale, con vantaggi che ovviamente vanno a ripercuotersi sulla clientela. Oggigiorno per la complessità dei veicoli è sempre più fondamentale e necessario avere personale qualificato che debba appunto intervenire sugli stessi veicoli, quindi sui vari componenti elettrici ed elettronici che compongono ormai i veicoli attuali. Tentare di risparmiare quando si fa eseguire una riparazione rappresenta la strada peggiore, in quanto si corre il rischio di avere mezzi non efficienti e dalla fine anche di spendere di più, con l'aggiunta di aver perso del tempo prezioso. Ecco perché è importante rivolgersi a centri autorizzati. È importante ormai rivolgersi a centri autorizzati specializzati perché sono costantemente in contatto con i costruttori dei veicoli o al case madre dei gruppi. Pertanto possono soltanto loro dare la massima garanzia sulla lavorazione stessa, per cui la lavorazione finale viene assolutamente garantita all'ultimo step di aggiornamento e di modifica dettata dal costruttore del veicolo stesso. Grazie a tutti.